Ragazzi, annuncio streaming! Volevo avvisarvi che questo pomeriggio, ore 15 in punto, sarò in live su Twitch. Ovviamente, dato i problemi tecnici che voi tutti sapete, non posso fare stream su YouTube fino a settembre, quindi ci vediamo oggi, pomeriggio, ore 15 in punto, su Twitch. Link del canale di Twitch in descrizione, mi raccomando, passate anche lì. Sarò lì dalle 15 alle 18 circa. Presso a poco. Ci vediamo più tardi, e beh, vi aspetta il streaming.